Analizzare le problematiche che investono il settore alla luce dei cambiamenti della legge. E' questo il tema dell'incontro che il presidente nazionale di Asso Balneari, Fabrizio Licordari, ha affrontato con gli operatori del settore abruzzesi nel corso di un incontro che si è tenuto ieri pomeriggio nella sede di Confindustria a Pescara. Ospite, tra gli altri, il primo firmatario del DDL sull'alienazione dei beni immobili del demanio marittimo, Massimo Baldini, ex senatore del PDL. Noi naturalmente cerchiamo di fare in modo che la Bolkestein si arresti, che a un certo punto venga cancellata per quanto riguarda le imprese balneari, soprattutto per quanto riguarda la certezza di queste aziende nella prospettiva del lavoro, dell'impegno, dell'innovazione e così via. Noi siamo fortemente interessati naturalmente a tutelare queste aziende in quanto riteniamo che costituiscono l'asse portante dell'economia turistica nazionale. A preoccupare di più i bagnatori è la possibilità che la messa a gara di evidenza pubblica europea delle concessioni spiani la strada a grandi gruppi del settore turistico contro i quali sarebbe difficile competere. Per questo anche la regione Abruzzo chiede ad Europa e il governo italiano una proroga delle concessioni esistenti, come accaduto in altri paesi europei, che consenta agli operatori il rientro dagli investimenti effettuati. Noi come regione Abruzzo ci siamo appellati anche al governo nazionale che si porti comunque a fare subito un doppio binario, che sarebbe per coloro uguale che dovranno già lavorare sul campo della balneazione, dare una proroga che possa essere minima di 30 anni. Nel frattempo a dettare la basitiva Bolxen su quelli che sono i nuovi stabilimenti balneari. Stiamo notando che c'è una disparità di trattamento tra i paesi europei. La Spagna ha ottenuto per le concessioni che scadranno il 2018 un periodo di proroga da un minimo di 30 a un massimo di 75 anni, per lo stesso tipo e la stessa qualità di impresa come la nostra. Il Portogallo ha il diritto di insistenza, cioè una norma che l'Italia invece in nome proprio delle imposizioni arrivate da Bruxelles ha dovuto abrogare.